La crisi del Movimento 5 Stelle con l'ascissione e la nascita del nuovo partito a trazione Di Maio scompaggina la politica italiana, non tanto rispetto agli equilibri interni a quella forza politica nata una decina di anni fa con i Waffa Day e implosa oggi in uno scontro tutto al vertice che appare soprattutto come un'operazione di palazzo, bensì sulla tenuta del governo, con Giuseppe Conte sempre più irrequieto e da oggi anche meno forte, una sessantina ai parlamentari che seguiranno Di Maio nella nuova avventura. Di certo, insieme per il futuro, il nome appunto della nuova formazione, dovrà radicarsi all'interno di quel campo largo che Letta ipotizza ormai da più di un anno ma che incontra pochissimo consenso sia nel PD che soprattutto nei seguaci di Conte e di Battista. Viene da chiedersi pertanto quanto il professore resterà interlocutore principe del PD a trazione Letta e come Di Maio potrà invece scardinare questa logica anche con trattative fino ad oggi quasi impensabili con i renziani o i riformisti del PD. Non è un caso che il sindaco di Firenze Nardella ma anche quello di Milano Sala abbiano già salutato positivamente l'iniziativa del ministro degli esteri. Sul fronte toscano l'ascissione del movimento non genera per il momento grandi problemi dato che i grillini sono all'opposizione in consiglio regionale e sono pochi i comuni dove governano insieme al centro-sinistra. Tutto sta di nuovo alla definizione di un campo largo che da oggi contiene una forza in più e che proprio ieri la neocoordinatrice toscana del movimento Irene Galletti spiegava così. Con articolo 1 e con alcune forze progressiste diciamo che l'allineamento è veramente molto ampio e il dialogo lì è più aperto. Nel PD ancora oggi ci sono delle, le chiamo correnti ma nel senso di indirizzi politici che tendono più a una versione centrista che a volte sembra quasi di destra per certi aspetti o comunque sia stride profondamente con la nostra visione. All'interno sempre dello stesso partito del PD ci sono delle forze profondamente progressiste. Siamo noi che diciamo in questa bifrontalità del PD ci troviamo in difficoltà. Se parliamo di azione e Italia Viva verso il quale una parte del PD ad esempio ha più inclinazione ci troviamo lì di fronte naturalmente a delle diciamo problematiche anche di riuscire a interagire insieme veramente nette. Gli scenari ovviamente sono tutti in divenire e le prossime ore oltre a trattative e accuse incrociate mostreranno pian piano un quadro sempre più chiaro degli schieramenti che potrebbero comporre un nuovo asse più governista e filodraghiano anche in vista delle prossime elezioni politiche nel 2023. Perché sì, è proprio così, i giochi sono già iniziati.